Nicola Molteni, che cosa ne pensa di questo decreto sul femminicidio? È un provvedimento con luci ed ombre. Innanzitutto credo che sia opportuno dire che questo provvedimento è stato discusso con delle modalità sbagliate. È un decreto, un tema così importante e delicato non può essere affrontato con decreto. Si è perso del tempo, la maggioranza PD e PDL hanno perso tempo, soprattutto in queste ultime settimane, alla luce della crisi politica. Il decreto uscito dal Consiglio dei Ministri era palesemente una norma spot. Ricordiamo per chi ci ascolta che quel decreto il Consiglio dei Ministri l'ha approvato esattamente lo stesso giorno in cui è stata votata una delle leggi più scandalose del governo Letta, ovvero lo svuota carceri. In Commissione si è cercato di migliorarlo. Luci ed ombre perché? Perché si potenziano le norme di natura repressiva, apportando alcuni miglioramenti in tema di violenza, stalking e maltrattamento. E poi vi è un'ombra clamorosa per noi, su cui la Lega ha fatto un'opposizione durissima, ovvero in riferimento all'articolo 4. Cosa dice l'articolo 4? Sostanzialmente concede agli stranieri, ovvero agli immigrati irregolari che subiscono violenze, per tutta una serie di reati, per tantissimi reati, la possibilità di poter accedere a un permesso di soggiorno per scopi umanitari. Abbiamo denunciato il fatto che soltanto il nostro ordinamento prevede questo tipo di permesso di soggiorno, vi è un altro permesso di soggiorno che potrebbe essere utilizzato, che è il permesso di soggiorno per scopi di giustizia. Questa norma cosa configura? Configura una vera e propria sanatoria di immigrati irregolari. Abbiamo presentato tantissimi emendamenti proprio per far capire che ormai questo è il governo che ha solo ed esclusivamente attenzione nei confronti di stranieri immigrati, se possibilmente irregolari, che non nei confronti dei nostri cittadini. È una norma vergognosa che viene richiamata in maniera estensiva rispetto alla Convenzione di Istanbul. Tutte le nostre critiche manifestate in Commissione le manifesteremo in Aula. Riscontro che ancora una volta l'unica forza politica che ha a cuore esclusivamente la sorte dei cittadini del nostro territorio è la Lega Nord.